Ciao ragazzi, Giovanni sono mattini. Performance Budweiser, Budweiser che va davanti in un amen. Budweiser ha superato performance Bcool bianco e nero che prescegono in linea davanti a deliziosa Ramlat in coda Timberwolf. Budweiser, Be Cool, Performance i tre precedono deliziosa, largo Ramlat che rompe l'indugi sulla curva Ramlat progredisce, va su Budweiser lo fa camminare con Budweiser all'interno e Ramlat di fuori poi Performance che precede Be Cool, bianco e nero deliziose in coda Timberwolf Budweiser, Ramlat, Performance stesso schema, Be Cool bianco e nero, deliziosa Timberwolf, a metà della dritta Ramlat prende sottotiro Budweiser che allunga ancora Nurse Performance che segue Ramlat Budweiser, Ramlat Performance, 165 tradotto in numeri poi bianco e nero, deliziosa Be Cool e Timberwolf sulla curva Ramlat è richiesto Budweiser scappa Performance rimane dal cia di Ramlat ma Budweiser sta scappando da Ramlat montato Performance bianco e nero, Timberwolf addirittura si spiegano e avventaglio Budweiser, Ramlat, Performance bianco e nero e Timberwolf con Performance che va in caccia di Budweiser in attispo lungo su bianco e nero poi Timberform Ramlat è battuto Performance è in vantaggio attaccato all'esterno da bianco e nero all'interno Budweiser poi Timberwolf Performance contro bianco e nero Performance in vantaggio su bianco e nero Budweiser e Timberwolf nel finale Performance che batte bianco e nero per una terza sono vicini Timberwolf e Budweiser Budweiser Stefano Landi per David Strilli e il nuvolone al completo vincono il premio Arturo e Giacomo Lanci alla fine battendo la resistenza di Budweiser e restringendo il tentativo finale del cronometrico bianco e nero per una terza avanti